Col di Retti Lazio, Regione e Prezzo del Latte Attività di promozione del territorio del latte laziale, quale leva per favorire la diffusione di un marchio territoriale e mantenere prezzi adeguati agli allevatori che conferiscono latte di origine tracciabile laziale, ed azioni di attuazione pacchetto latte, con particolare attenzione al rafforzamento del ruolo delle organizzazioni dei produttori nella negoziazione del prezzo del latte. Domani si discuterà anche del futuro della centrale del latte di Roma, sia sul piano della proprietà che delle politiche industriali necessarie alla tutela e alla valorizzazione del latte della capitale. Una questione che non riguarda solo gli allevatori che percepiscono 42 centesimi per ogni litro di latte prodotto, ma investe direttamente anche i consumi dal momento che lo stesso litro di latte si trova sul mercato ad un prezzo 4 volte superiore.